L'episodio di questa settimana secondo me è stato il migliore della seconda stagione perché racchiude tutti i punti di forza dell'attacco dei giganti in solo 20 minuti Mistero, azione, inquietudine, violenza e colpi di scena Per quanto riguarda il mistero abbiamo quello strano dialogo tra Ymir e Rainer sulla scatoletta di tonno Infatti a quanto pare loro sanno qualcosa che a noi manca e Ymir probabilmente fa parte di un piccolo gruppo di persone che è in grado di leggere quel linguaggio Se proprio devo fare un'ipotesi su questa scatoletta di tonno Immagino che questi prodotti magari che vengono venduti in tutta la città servano per mandare dei messaggi criptati a un determinato gruppo di persone facendo sì che i giganti magari o che altri umani non possano leggerlo però non so a chi potrebbe scriverlo, forse la chiesa, forse no e tanto meno so a chi potrebbe riceverli questi messaggi Comunque i giganti attaccano la torre, il corpo di ricerca inizia a farli fuori scena e azione molto belle, ci vede il gioco di squadra, disegni fatti bene c'è abbastanza violenza diciamo così, mi è piaciuto molto ma quello su cui voglio fare una nota in merito proprio è il modo in cui hanno trattato i giganti ad esempio quello che entra nella torre che vedete nelle immagini ha una delle facce più inquietante dell'intero anime, compresa della prima stagione davvero hanno fatto un ottimo ottimo lavoro qui per rendere l'idea diciamo dello spavento guardando questi giganti molto bella anche questa immagine qua con la ragazza del corpo di ricerca che è circondata dalle facce dei giganti che diciamo ricorda molto quello che ha provato il suo collega nella scorsa puntata quando si immaginava i giganti che venissero fuori dal buio mi è piaciuto molto poi volevo fare un piccolo cenno a questa scena dove Rainer solleva il gigante cioè io capisco che Rainer sia un tipo abbastanza robusto, grosso, insomma sicuramente forte ma comunque quello rimane un gigante e nessuno sembra essere rimasto troppo scandalizzato dal fatto che sia stato in grado di sollevarlo però vabbè che ci possiamo fare e poi c'è il colpo di scena della puntata Ymir si trasforma in un gigante sotto sotto ce lo aspettavamo che fosse un gigante ma proprio che si trasformasse in questo momento così da nulla è stato abbastanza l'impatto questa trasformazione in più dimostra due teorie una la fa cadere e l'altra la conferma diciamo così la prima è la somiglianza tra il gigante e la sua versione umana fino adesso pensavamo che un umano che si trasformasse in gigante assumesse delle sembianze fisiche quantomeno simili a quelle della sua versione umana invece in questo caso con Ymir non accade proprio perché Ymir è alta, un po' magra invece il gigante in cui si trasforma è bassotto e anche un po' cicciotto allo stesso tempo però ci conferma che ogni uomo che si trasforma in gigante ha delle caratteristiche specifiche ad esempio in questo caso Ymir si vede che ha questi denti aguzzi da squalo per strappare la carne cosa che è la differenza dagli altri giganti diciamo sfigati infine prima di chiudere voglio mettere in luce un aspetto molto caratteristico di Attack on Titan che in questa puntata si nota molto infatti in questa puntata con la morte dei due caposquadra notiamo come alla serie Attack on Titan piaccia umiliare i personaggi prima di farli morire lo vediamo con il tipo che una volta salvato dal gigante viene lanciato nella torre trova la bottiglia può finalmente farsi un goccio ma aprendo la bottiglia nota che questa è vuota e subito dopo viene ucciso lo vediamo anche con la ragazza che mentre viene strattonata e divorata dai giganti implora il padre di perdonarla urla chiedendo scusa urla al padre di smetterla insomma come se delle violenze subite da piccola fossero riemersi al momento della sua morte insomma si può proprio dire in questi casi oltre al danno la beffa il prossimo episodio probabilmente sarà pieno di flashback in quanto parleranno della storia tra Kirista e Ymir per questo video è tutto ditemi che cosa ne pensate nei commenti se vi siete persi i vecchi recensioni andate a recuperare in questa playlist che vi linko e iscrivetevi al canale per continuare a seguire la serie ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti